Ciao a tutti ragazzi, io sono Taseghi e benvenuti in questo nuovo episodio di... Non ho ancora chiamato la serie, probabilmente sarà Ulisse Time, Ulisse Fuck You Time, probabilmente, una cosa del genere, quindi si può fare più o meno. Allora, benvenuti in questo secondo episodio, siamo seconda domenica, quindi spero di continuare questa serie che a me piace abbastanza. E sto sempre registrando con questa webcam da quattro terzi, spero di cambiarla molto, molto, molto presto, speriamo di sì. In ogni caso, mi avete fatto qualche domanda nello scorso vlog, quindi risponderò a quelle domande. E oltre al fatto che avete detto che c'è luce, lo so, però l'unico problema è che dovrò alzarlo così, non incomodo probabilmente, per migliorare il tutto. E allora, oltre al fatto che la luce c'è perché ho la finestra di qui, quindi la luce arriva di qui e si vede dietro, essenzialmente, quindi tanta luce da me. In ogni caso, oltre a questo, risponderò a quattro domande che mi hanno fatto, due sono molto simili, quindi penso le metterò assieme. E poi darò un piccolo update sulla lucecraft e più o meno quello che ho intenzione di fare per la prossima settimana, quindi, insomma, come le ho fatto settimana scorsa. Quindi iniziamo con le prime domande, me le sono scritte perché è giusto. Prima domanda, mi dicono, metterò qui sotto probabilmente la domanda perché sarebbe fisico farlo in montaggio, spero che esca, quindi gg. Allora, la prima cosa mi chiedono è, ci sia stato qualcuno che ti sia associato per crescere su YouTube o hai fatto da solo? Principalmente penso che per crescere su YouTube servono comunque fare delle collaborazioni. Penso sia molto bello comunque fare delle serie multiplayer, soprattutto se giochi a Minecraft perché è una serie, cioè fare delle serie multiplayer su Minecraft, che è un gioco principalmente nato per quello, è una cosa che ti aiuta sia a imparare il gioco, in parte, sia a comunque crescere su YouTube. Penso che comunque entrare nel network di Tom's Hardware e poi comunque nei gg e il fatto che comunque ci sia Luke che ha comunque parecchi iscritti, mi abbia sicuramente aiutato a crescere sul mondo di YouTube, questo sicuramente non posso negarlo, quindi gg. Seconda domanda, come hai cominciato a far video? E questo è molto simile a quello che mi metterò sul lato, che è, cosa ti ha aspirato a intraprendere la tua carriera su YouTube qui? Allora, come è iniziato presumo più o meno, diciamo, con quale equipaggiamento probabilmente? Allora, per quanto riguarda equipaggiamento direi che il PC è lo stesso, quindi ho iniziato con questo PC che non è il mio, ed è un PC comunque molto basso in termini di gaming, però non è male, lo trovo molto molto utile, soprattutto per me che gioco principalmente Minecraft e non altre altre robe. Ehm, cosa ti ha spinto a fare YouTube? A fare di video su YouTube? Suficientemente, ehm, sto passando un periodo di nerding estremo sui morph, ovvero MMORPG, e, ehm, per caso ultimamente guardavo un po' di video su, ehm, su YouTube, perché gli amici mi hanno detto, gioca Minecraft, guarda è un bel gioco, ehm, non è male, sicuramente la prima esperienza con Minecraft, se vorrete ve la racconto, perché è una cosa fantastica, tipo, ehm, sono stato un giorno a capire come tenere della legna, perché facevo tipo un click del tasto, invece di tenere l'ho premuto, e quindi, semplicemente, non riuscivo a spaccare la legna, quindi, capitemi. Poi improvviso spuntavano dei creeper, questi creeper facevano boom, e io li volevo abbracciare perché erano delle cose carine, poi quando arrivavano lì. Soffrire, soffrire, tanto, tanta sofferenza in noi. Comunque, tra questo, dicevo, eh, sto guardando dei video di YouTube, e mi è capitato, eh, qualche video di qualcuno che faceva Minecraft, tra cui anche quello di Luke, quindi, per esempio, ci ho detto perché non provarci, tanto che fin fine, eh, il mio PC reggeva Minecraft Vanilla, ma anche, anche, delle serie, um, moddate, quindi, eh, mi hanno detto, perché no, iniziamo, proviamo, se avete iniziato quel gioco, poi, comunque, avanti, fino ad adesso che abbiamo, comunque, la bellezza di quasi 14.200 iscritti, quindi sono davvero tanti, vi ringrazio ogni giorno, continuamente, quindi, gg, ragazzi. Eh, oltre a questo abbiamo l'ultima domanda, che è il liceo che frequento. Generalmente l'ho già spiegato, eh, partiamo dal presupposto che ho 17 anni, ne compierò 18 quest'anno, quindi frequento il quarta superiore, e, eh, frequento il liceo scientifico, eh, corso standard, ovvero faccio latino e filosofia, rispetto a chi, per esempio, fa scienze applicate, che fa, eh, diciamo, più ore di scienze e, eh, informatica. Inizialmente il mio corso era questo, solo che, eh, l'ultimo anno è stato deciso che poi non ci sarebbe stato, infatti, l'anno successivo al mio, eh, c'è stato questa, questo aggiunto di questo, eh, secondo corso, eh, che si distingue dal primo. In ogni caso, passiamo invece alle news più importanti sul canale. La Ulissecraft è stata aggiornata all'ultima versione per la 1.6, la 1.1.5, e, eh, penso che non aggiornarò più per la 1.6, in quanto sto già pensando di iniziare a montare sulla 1.7. Ci sono poche mod, però, eh, non è un gran problema, perché pian piano stanno uscendo, eh, altre mod, e, eh, spero presto ci sia, comunque, eh, una versione nuova, eh, di Minecraft 1.8, probabilmente uscirà, eh, settimana prossima, due settimane massimo, penso, comunque è molto vicino, e, eh, quindi probabilmente Forge uscirà di seguito, e quindi vedremo se, eh, fare solo 1.7 oppure solo 1.8, poi decideremo. In ogni caso, per chi non l'avesse notato, nel scorso vlog avevo capelli giganti, ora, tipo, capelli piccoli, e, barba, barba via. Odio salutare Chip, però devo farlo, perché ti odio, Chip, quindi, ciao Chip, e, eh, cos'altro? Nient'altro, ragazzi, direi, eh, per la settimana penso che farò qualche vlog, no, non farò, eh, qualche vlog in più, farò semplicemente solo un vlog di domenica, e farò pochi live, perché, semplicemente, settimana prossima è pieno di compiti, quindi, uccidersi, uguale, fare compiti ogni settimana, quindi, ci vediamo al prossimo video, ciao, ciao, ragazzi!